Raga buongiorno, stamattina Napoli-Juve primavera, adesso mi preparo e vi porto con me Ma mi vedrete mai in un video senza fare starnuti e tosse? Raga sono sincero non ho mai visto una partita di primavera, però ieri navigando su internet e andando sul sito del Napoli ho scoperto di questa partita Motivo per cui ho pensato, lo stadio ce l'ho vicino casa, Napoli-Juve è sempre una bella partita per quanto riguarda il calcio maggiore Perché no? Andiamo a vedere anche Napoli-Primavera contro Juve-Primavera E quindi ho deciso di portarvi questo vlog, ho deciso di portarvi questa nuova esperienza, venite con me A Ju, è entrato lui, ha signato a Ju Bravo, 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 bravo Nooo, nooo Non è doppio Juve, vai Ju Non me la buttate la nuova Mannaggia Non me la buttate in mezzo, che cosa hai fatto? Andami Vai Ju, finito adesso il primo tempo 2-0 Juve, Juve troppo superiore C'è da aggiustare qualcosa, soprattutto sotto porta Ci vediamo bene Tira bene Oh Oh Tiro Nooo Oh Mannaggia Non ti sento la travesta, stai mazzacando Vai Ambro Dai Dai Dai, ragazzi Dai, dai, dai Vai Dai Ok 2-0 Dun angry Un po' Un minuto Un minuto Un ni un Mi passo Un i E' un pozzo! Oh, è pure un pozzo! Tutto! Papà, papà, pezzo! Tutto è mei... Tutto è mei... Tutto è mei... Un momento a caldo di Fius dopo questo 5 a 0 netto della Juve, Juve troppo superiore. Andamoli, cosa è mancato, ragazzi? Tutto, tutto! Non è proprio entrato in campo, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo, verso la fine, abbiamo fatto qualche tiro, però è proprio una chiave. Quello dobbiamo ammettere. Sono stati superiori in tutto, dai! Lo sport è anche questo. Sono giovani, sono ragazzi, dai, si devono riprendere. Sì, sicuramente. Spero solo che comunque si riprendano, come ha detto Andone, perché sennò... Vabbè, che è una partita, quindi... Ci possiamo salvare la prossima. Sì, assolutamente! Però forza Napoli! Sì! Purtroppo non è andata come speravamo, sconfitta sonora con la Juve Primavera. Fatemi però sapere se questo tipo di contenuto può piacervi, perché magari qualche altra partita della primavera la vengo a vedere e ve la porto sul canale. Sempre Forza Napoli! Lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao, vai!